Minaccia di tempesta in arrivo, brutto tempo, il vento si sta alzando in modo impetuoso L'unica cosa che posso dirvi era gente, raga, è che ho fatto in tempo arrivare a casa Perché sai quando c'è questi tempi qua brutti è meglio stare tranquilli a casa Vedete il vento come soffia? Sta aumentando l'intensità L'estate sta finendo Io che sono uno che ama la neve e il freddo sono molto contento Temperatura molto gradevole Adesso non so bene di preciso quanti gradiamo, saranno forse 24, 23 Qualche tuone in lontananza E questo temerario che gira in bicicletta che è molto spensierato